fratelli e sorelle nel signore questa sera voglio parlarvi voglio parlarvi di un argomento molto importante di cui purtroppo nelle chiese si parla poco si parla poco e se ne parla male l'argomento di cui voglio parlarvi oggi sono i sogni e le visioni cioè dio parla ancora oggi questo è importante il dio parla ancora oggi all'uomo attraverso i sogni e le visioni quando l'uomo quando l'uomo quando l'uomo sta dormendo il dio attraverso un sogno può intervenire in quella persona e comunicare con lui o mandare un angelo o in qualche maniera mandare una comunicazione è un parlare che dio ha con l'uomo quando sta dormendo nel sogno il sogno è quando la persona non è cosciente no di sogni ne facciamo tanti non tutti i sogni vengono da dio alcuni sogni vengono la maggior parte la maggior parte dei sogni vengono dalle nostre preoccupazioni giornaliere la maggior parte dei sogni vengono da quello che abbiamo mangiato a volte abbiamo degli incubi no perché ci sono disturbi ma perché abbiamo mangiato tanto o abbiamo mangiato male quindi quindi ci siamo appesantiti e abbiamo dei degli incubi dei sogni no dei brutti sogni diciamo ecco quelli non per forza sono sogni che vengono da dio e quindi quindi per la maggior parte dei sogni vengono dalle occupazioni nostre giornaliere però in mezzo ai sogni in mezzo ai sogni quando noi proprio dormiamo quindi siamo addormentati possiamo ricevere un sogno da parte di dio una certa comunicazione che dio ci vuole dare per noi o per altri capite cioè non è che purtroppo con questo spirito massonico che aleggia nelle nelle comunità nelle denominazioni evangeliche oggi sì che si cerca di eliminare il soprannaturale dove non sono riusciti a eliminare completamente cercano di neutralizzare nell'effetto cioè dei sogni e le visioni dicono che il dio le dà no taluni dicono che le dà per per parlare alla persona che li riceve sì questo può essere anche vero ma non è solo questo cioè il dio se parla una persona in sogno o in visione che può parlare anche con una voce audibile cioè non per forza con sogni e visione attraverso la profezia può parlare può parlare in diversi modi il signore comunica con l'uomo il dio che ha fatto la bocca no il dio che ha inventato lui che ha creato la comunicazione tra le persone e volete che lui non riesca a comunicare con le sue creature sì il dio comunica sempre comunicato con le sue creature come ha voluto lui e ancora oggi questo avviene cioè non è che oggi siamo nel 2014 l'uomo è arrivato su marte arriva ancora non è arrivato arriverà su marte è arrivato nel senso con i meccanismi con gli apparecchi particolari elettronici ci arriverà anche di persona noi non lo mettiamo in dubbio questo può arrivare nello spazio anche più lontano ma ciò non cambia perché quello che è scritto nella parola di dio rimane ancora oggi e ancora oggi il dio parla all'uomo come e quando vuole lui io voglio parlarvi di questo affinché voi lo sappiate che sono cose che sono scritte queste qui sono scritte e noi dobbiamo credere a quello che è scritto dobbiamo credere tutti quanti che dio parla ancora oggi attraverso sogni e visioni affinché noi li desideriamo e affinché quando li riceveremo no non li rigettiamo indietro e quando sentiamo altri che dicono di aver avuto visioni e sogni ci dobbiamo credere sempre esaminando ogni cosa attraverso le sacre scritture è chiaro perché non è che dobbiamo credere a tutto quello che si dice non è che il primo che viene avuto un sogno avuto una visione noi gli crediamo subito così senza nessun problema no dobbiamo esaminare tutte le cose attraverso le scritture se notiamo che c'è qualcosa che contraddice le scritture noi o rigettiamo le scritture o rigettiamo quel sogno e quella visione che ha avuto quella persona quindi è preferibile non credere rigettare semmai quel sogno e quella visione e tenersi le sacre scritture che sono sono molto più affidabili perché la parola di dio è una lampada al nostro piede una una luce sul nostro sentiero perché la parola ci guida la parola illumina no illumina ci fa vedere anche dove ci sono i fossi dove ci sono le difficoltà dove ci sono le trappole anche del maligno e quindi state attenti state attenti perché attraverso i sogni e visioni io io ve ne parlo perché sono reali ancora oggi dio può parlare attraverso sogni e visioni però è chiaro che di queste cose se ne possono servire anche gli avversari gli avversari della verità gli avversari della parola gli avversari della chiesa no gli infiltrati i falsi profeti i falsi profeti cosa fanno non fanno altro che inventarsi sogni visioni messaggi comunicazioni che dio che dio dice se loro dicono che dio gli ha detto quando il dio non ha parlato loro in nessuna maniera e questo lo fanno magari inventando se ha avuto un sogno ha avuto una visione quindi credere ma non essere creduloni cioè la cosa è diversa capite cioè essere credenti è una cosa essere creduloni è un'altra il credulone è colui che crede tutto quello che si dice senza esaminare niente e noi dobbiamo essere credenti non creduloni creduloni lo lasciamo fare ad altri noi siamo credenti noi crediamo primo crediamo a quello che sta scritto nella parola di dio poi possiamo credere alle parole anche dei fratelli alle testimonianze ai sogni alle visioni esaminando sempre però attraverso le sacre scritture quello che viene detto e questo è importante credere ma sempre passando attraverso se un ragionamento logico una un esame di quello che si è detto di quello che si sta dicendo che si sta argomentando ma questo vale per i sogni e visioni per ogni cosa è per tutte le cose che vengono fatte dette bisogna sempre esaminare ogni cosa perché la seduzione del maligno è sempre pronta cioè il maligno è sempre all'opera ora si serve di uno poi si serve di un altro poi si serve di un altro ancora e cerca di sedurre i santi gli eletti va bene affinché si svigno dalla verità e noi invece dobbiamo dobbiamo siccome non ignoriamo le macchinazioni di satana dobbiamo dircele queste cose ce le dobbiamo ricordare sempre ci dobbiamo esortare sempre esaminare ogni cosa affinché niente nessuno ci possa sviare dalla verità queste sono cose importanti ma adesso facciamo questo viaggio attraverso le scritture partendo dal principio suddividiamo diciamo il nostro il nostro periodo biblico io personalmente non voglio farne una dottrina certa però il periodo delle scritture io li suddivido in diversi periodi no ad esempio c'è il periodo del principio lo faccio giungere linee generale e sto facendo nei ragionamenti perché bisogna distinguere non Gesù disse quando parlava appunto del matrimonio che solo una donna era stata fatta per l'uomo disse ma in principio non era così perché Eva fu fatta fu fatta per Adamo una donna sola no il principio quindi dal principio della creazione fino diciamo fino alla legge poi c'è il periodo della legge di Mosè la legge di Mosè ha durato fino a Giovanni Battista poi da Giovanni Battista in poi da Giovanni Battista in poi sì perché l'Evangelo della grazia è cominciato si è iniziato ad annunziare l'Evangelo della grazia della misericordia di Dio è iniziato con Giovanni Battista quindi da Giovanni Battista in poi siamo nel periodo sotto la grazia sotto la grazia che terminerà no terminerà con la risurrezione dei morti con l'avvenuto del Signore Gesù Cristo e la risurrezione dei morti e lì inizierà il millennio quindi ci sarà il periodo del millennio quindi mille anni terminati mille anni ci sarà un'ultima battaglia contro popolazioni che si schiereranno ancora contro Gesù Cristo e contro i Santi e saranno distrutti dopodiché verrà il giudizio giudizio finale e dopo la terra sarà distrutta e saranno creati nuovi cieli e nuova terra per adesso in questa terra io mi fermerei a questi periodi quattro periodi fino al millennio quindi esamineremo che nel principio nel periodo prima della legge il Dio parlava attraverso sogni e visioni durante la legge parlava ai suoi profetti attraverso sogni e visioni e sotto la grazia non è cambiato nulla cioè è questo è questo che è importante il Dio come ha parlato anticamente attraverso sogni e visioni così ancora oggi può parlare all'uomo attraverso sogni e visioni non è cambiato nulla noi oggi siamo nel periodo sotto la grazia e ancora oggi il Signore parla attraverso sogni e visioni parla quando vuole lui parla a chi vuole lui questo è importante che non è che parla tutti i giorni quando vogliamo noi no noi però dobbiamo saperle queste cose che ci sono nella scrittura dobbiamo avere fede in queste cose dobbiamo crederci dobbiamo ascoltare attentamente quando un fratello dice ho avuto un sogno ho avuto un sogno ho avuto una visione ho avuto una visione il Dio mi ha parlato mi ha detto cosa ti ha detto ascoltiamo ascoltiamo attentamente esaminiamo ogni cosa e poi attraverso la scrittura noi ci rendiamo conto se quello che è stato detto può essere oppure no e poi lo spirito santo anche ci aiuta e noi dobbiamo essere prudenti però lo spirito santo insieme alla parola di Dio ci aiutano a comprendere se le cose quelle quelle quel sogno quella visione che ci raccontano vengono da Dio se c'è un minimo di incertezza se c'è qualcosa che non quadra allora lasciamo stare stiamo attenti poi talvolta talvolta se sono cose che ci riguardano faccio un esempio io vengo a voi a chi ancora non è sposato non faccio un esempio vengo da te ti dico a te che non sei sposato uomo donna che sei dico fratello sorella il Dio mi ha parlato mi ha detto che ti devi sposare con tizio ti devi sposare con caio voi fate bene ad ascoltare non è che fate male però cosa dovete fare come dovete reagire va bene fratello te l'ha detto a te bene adesso aspettiamo che Dio me lo dica anche a me perché riguarda me non è che viene uno e ci dice per liberarsi di noi no il fratello il Dio mi ha dato una visione mi ha detto che tu dovrai andare in Africa a predicare la parola e se lo toglie di mezzo capite perché noi noi siamo in guerra c'è l'avversario usa ogni tipo di scorrettezza per eliminare i suoi avversari in qualsiasi modo in qualsiasi maniera questo cosa fa noi siamo in guerra allora dobbiamo cioè non è che siccome ci sono visioni e sogni falsi dobbiamo rigettare anche quelli veri no non dobbiamo fare così ci sono i sogni veri ci sono i sogni falsi ci sono le visioni vere date da Dio all'uomo e ci sono le quelle visioni che l'uomo se le inventa per suoi motivi per ingannare qualcuno ma questo noi dobbiamo stare tranquilli che il signore ci guida innanzitutto noi facciamo sempre dobbiamo dobbiamo fare sempre soltanto quello che sta scritto nella parola come prima cosa i sogni le visioni li ascoltiamo con attenzione e poi vediamo se lo spirito santo ce lo conferma e se sono conformi questi sogni queste visioni a quello che sta scritto nella parola se sono cose che non possiamo trovare perché se uno mi dice quella sarà tua moglie quello sarà tuo marito se sono cose di questo genere di cui non possiamo trovare conferma nella scrittura ci mettiamo a pregare per chiedere conferma a Dio perché Dio conferma se la sua parola egli ha piacere di confermare non si diciamo che Dio non prende piacere negli stolti ma negli avveduti ricordatevi Gedeone chiese tanti segni prima di andare in quella battaglia che per lui era proibitiva per il numero degli avversari e la forza degli avversari però il Dio non è che lo sgridò perché chiese diversi segni no si compiacque ma perché aveva fede in Dio credeva che Dio poteva dare quei sogni quei segni scusate quei segni e Dio glieli diede glieli diede e quindi anche noi oggi dobbiamo avere fede in Dio ma fratelli guardate che stiamo parlando di avere fede in Dio in quell'iddio che ha fatto i cieli alla terra nell'iddio che con un mano potente braccio disteso ha aperto il mar rosso ha fatto passare il popolo di Israele milione e milione di persone col bestiame giovani vecchi li ha fatti passare come sull'asciutto questo è il nostro Dio colui che con la parola ha fatto tutte le cose quello che disse sia la luce la luce fu colui che può fare tutte le cose al di là di quello che noi ci immaginiamo e pensiamo colui che vedendo l'incapacità dell'uomo di essere salvato da solo per le sue opere per la sua forza perché non poteva essere quindi l'uomo salvato non si poteva salvare da solo perché la sua natura era corrotta quell'iddio ha mandato il suo figliolo Gesù Cristo a morire sulla croce per salvare per salvare il suo popolo per acquistarsi un popolo ora si è acquistato un popolo attraverso la morte di Gesù Cristo e perché non può ancora parlare ha sempre parlato attraverso sogni e visioni al suo popolo perché non può parlare oggi quindi fratelli questo credere che Dio parli ancora oggi attraverso sogni attraverso visioni è importante è importante noi dobbiamo credere a quello che sta scritto nella parola e questa parte è una parte importante che è scritta nella parola e allora andiamo a leggere ora partiamo dal principio dal libro della Genesi dove vediamo come Dio parla in sogno ad un re al re Abimelet andiamo in Genesi capitolo 20 dal versetto 1 Abramo si partì di là andando verso il paese del Mezzodì dimorò fra Cades e e abitò come forestiero in Gerar e Abramo diceva di Sara sua moglie ella è mia sorella e Abimelec re di Gerar mandò a pigliare Sara ma Dio venne di notte in un sogno ad Abimelec e gli disse ecco tu sei morto a motivo della donna che ti sei presa perché la ha marito or Abimelec non sera accostato a lei e rispose signore faresti tu perire una nazione anche se giusta non ma egli detto e mia sorella e anche lei stessa ha detto egli è mio fratello io ho fatto questo nella integrità del mio cuore con mani innocenti e Dio gli disse nel sogno anch'io so che tu hai fatto questo nella integrità del tuo cuore e t'ho quindi preservato dal peccare contro di me perciò non ti ho permesso di toccarlo or dunque restituisci la moglie a quest'uomo perché è profeta ed egli pregherà per te e tu vivrai ma se non la restituisci sappi che per certo morrai tu e tutti i tuoi e Abimelec si levò la mattina per tempo chiamò tutti i suoi servi e raccontò e raccontò in loro presenza tutte queste cose e quegli uomini furono presi da gran paura cosa è successo è successo che Abramo si comportò in quella maniera diceva era veramente anche sua sorella Sara non è che era una menzogna però per paura per altro perché lo uccidessero perché Sara era una donna avvenente una bella donna per prendersi magari sua moglie la uccidessero lui per prendersi la moglie e comunque diceva che era sua sorella Abimelec si è preso Sara la moglie di Abramo pensando che poteva farlo capite ma prima che la conoscesse prima che la conoscesse prima che la conoscesse il dio gli si è mostrato in sogno vedete sta scritto ma dio venne di notte in un sogno ad Abimelec quindi e lo fece per preservare lui e tutta la sua nazione tutta la nazione tutta la nazione tutta la città tutta la nazione di cui questo Abimelec era era re quindi in questo caso il dio lo avvisò lo avvisò lo ammonì e gli disse di lasciare andare quella donna quindi in il dio è intervenuto vedete e questo cosa ci fa capire ci fa capire che il dio quando i santi quando i credenti hanno bisogno il dio può intervenire può intervenire può intervenire anche in questa maniera parlando ai nostri nemici parlando a coloro che ci hanno fatto un torto può intervenire dio lo può fare egli può fare quello che vuole noi siamo chiamati a credere a quello che sta scritto noi siamo chiamati a credere che dio può operare anche queste cose quindi le dobbiamo conoscere le dobbiamo leggere nelle sacre scritture ci dobbiamo credere perché il dio si compiace non degli stolti ma delle persone savie che si documentano e diligentemente studiano le sacre scritture quindi dobbiamo impegnarci sempre di più a studiare le scritture perché in esse c'è tutto quello che noi tutto quello di cui il credente ha bisogno per essere formato pienamente formato e arrivi a piena maturità per fare la volontà di dio quindi vedete il dio è intervenuto su questo re attraverso un sogno cos'è quindi abbiamo detto che un sogno sia quando una persona dorme e vede determinate cose o sente determinate voci quindi quindi mentre sta dormendo la visione invece la visione è un ratto di mente la sua mente viene rapita c'è e sveglio e sveglio e a un certo punto la sua mente non vede più i suoi occhi non vedono più quello che c'è attorno a lui ma vedono la sua mente viene rapita e si concentra e vede quello che dio vuole che lui veda anche rimanendo per dire dentro una città il dio gli fa vedere una montagna un prato verde e fisicamente lui si trova per dire dentro una casa non potrebbe mai vedere un prato verde e le montagne un fiume ma il dio è potente da fare anche questo e questo avviene la visione sia quando uno è sveglio quando è sveglio quando invece sta dormendo quello è un sogno quindi dio può parlare agli uomini attraverso sogni e visioni lo fa questo questo lo devo dire perché così lo fa soprattutto concentrandosi in maniera particolare con i suoi profeti cioè dio parla poi leggeremo anche passo dove lo dice lui stesso che lui parla principalmente non soltanto attenzione notate bene non soltanto parla i suoi profeti attraverso i sogni e visioni ma principalmente parla ai suoi profeti e vi ricordo che il ministerio di profeta è aperto anche alle donne c'è il ministerio ministerio di profeta e profetessa quindi c'è anche per la donna quindi il dio può dare un sogno una visione anche a una donna una profetessa può dargli il donno di ministerio e poi si mostra regolarmente con una certa regolarità anche a alla donna a quella quella a quella donna che è stata ha ricevuto da dio il ministerio di profeta se un uomo è l'uomo se una donna il dio si mostra una donna come vuole lui egli fa quello che vuole il ministerio non ce lo possiamo creare noi non può essere neanche votato non è che votiamo a maggioranza scegliamo un profeta in mezzo a noi no non funziona così i ministeri non si possono scegliere i ministeri non li possiamo votare il ministerio viene dato dal nostro signore gesù cristo a colui che lui vuole che ha deciso a cui ha deciso di darlo quindi quindi noi possiamo desiderare i ministeri e pregare il dio che per servirlo secondo come lui ha deciso poi il signore deciderà sarà lui a operare mentre il vescovo e l'anziano o anche vescovo e il diacono possono essere scelti dalla chiesa tra quelli più rappresentativi che hanno determinato caratteristiche che è chiaro non è che possono scegliere così per simpatia ma se hanno determinati caratteristiche quelli possono anche essere scelti dal dalla chiesa ma ma i ministeri non possono essere scelti da nessuno se non da gesù cristo quindi uno non si può definire ministro di dio che ha un ministerio quindi se non gliel'ha dato il signore cioè il ministerio non si prende studiando nelle scuole bibliche il ministerio non si riceve prendendo il tesserino di pastore di evangelista di dottore no non ci sono tesserini qua qua non ci sono registri tesserini non c'è niente qui ci sono ginocchi a terra faccia a terra pregare studiare e aspettare che dio ti parli e ti dica di fare una determinata cosa da lì si comprende quale ministerio in base a quello che che devi fare o i doni che ricevi o te lo dice espressamente però è il signore che ti chiama a quel tipo di servizio è il signore qui non ne non sono gli uomini ora torniamo al nostro soggetto di oggi che sono i sogni e le visioni ancora in Genesi ancora in Genesi leggiamo uno dei sogni che è tra i più conosciuti però noi lo ricordiamo appunto al capitolo 41 voi vi ricordate che Giuseppe era in carcere ma Faraone ebbe dei sogni ebbe dei sogni e Giuseppe diede l'interpretazione di questo sogno quindi dio diede un sogno in questo caso lo diede per diversi motivi adesso lo leggiamo e poi argomentiamo anche questo sogno 41 1 di Genesi or avvenne in capo a due anni interi che Faraone ebbe un sogno ed ecco che stava presso il fiume e su dal fiume ecco salire sette vacche di bella apparenza e grasse e mettersi a pascere nella giuncaia e dopo quelle ecco salire dal fiume altre sette vacche di brutta apparenza e scarne e fermarsi presso alle prime sulla riva del fiume e le vacche di brutta apparenza e scarne divorarono le sette vacche di bella apparenza e grasse e Faraone si svegliò poi si riaddormentò e sognò di nuovo ed ecco sette spighe grasse e belle venire su da un unico stelo poi ecco sette spighe sottili e arse dal vento orientale germogliane dopo quelle altre e le spighe sottili indiottirono le sette spighe grasse e piene e Faraone si svegliò ed ecco era un sogno la mattina lo spirito di Faraone fu conturbato ed egli mandò a chiamare tutti i magi e tutti i savi d'Egitto e raccontò loro i suoi sogni ma non ci fu alcuno che li potesse interpretare a Faraone poi attraverso altri sogni che Giuseppe Giuseppe ebbe quando era in carcere ingiustamente era incarcerato Giuseppe a motivo della moglie di Potifar uno degli uomini importanti di Faraone perché questa donna lo voleva sedurre e Giuseppe è scappato perdendo la veste diciamo un pezzo della sua veste e fu accusato come se volesse lui fare del male a questa donna insomma che invece lui fuggì solamente quindi da uomo giusto ecco che fu messo in carcere quindi subì questa ingiustizia ma tutto questo faceva parte del piano di Dio non è che non è che era sfuggito niente al controllo dell'iddio vivente vero neanche allora e in quel carcere in quel carcere poi furono incarcerate altre persone il coppiere e il panettiere uno morì l'altro fu salvato ebbero tutte e due dei sogni Giuseppe glielo interpretò uno fu ucciso l'altro sopravvisse e quando 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 Faraone ebbe questo sogno quello che fu liberato si ricordò che c'era Giuseppe in carcere e che aveva interpretato il suo sogno allora anche Faraone fece chiamare Giuseppe perché voleva voleva Giuseppe era uno dei figli di Giacobbe e Giuseppe interpretò interpretò il sogno a Faraone al versetto 14 quindi 41-14 leggiamo allora Faraone mandò a chiamare Giuseppe il quale fu tosto tratto fuor dalla prigione sotterranea egli si rase si cambiò il vestito e venne da Faraone e Faraone disse a Giuseppe ho fatto un sogno e non c'è chi lo possa interpretare e ho udito dir di te che quando ti hanno raccontato un sogno tu lo puoi interpretare Giuseppe rispose a Faraone dicendo non sono io ma sarà Dio che darà a Faraone una risposta favorevole poi il Faraone racconta il sogno e al versetto 25 Giuseppe lo interpreta allora Giuseppe disse a Faraone ciò che Faraone ha sognato è una stessa cosa il Dio ha significato a Faraone quello che sta per fare le sette vacche belle sono sette anni e le sette spighe belle sono sette anni è uno stesso sogno e le sette vacche magre e brutte che salivano dopo quelle altre sono sette anni come pure le sette spighe vuote e arse dal vento orientale saranno sette anni di carestia questo è quello che ho detto a Faraone il Dio ha mostrato a Faraone quello che sta per fare ecco stanno per venire sette anni di grande abbondanza in tutto il paese d'Egitto e dopo verranno sette anni di carestia e tutta quell'abbondanza sarà dimenticata nel paese d'Egitto e la carestia consumerà il paese e uno non si accorgerà più di quell'abbondanza nel paese a motivo della carestia che seguirà perché questa sarà molto aspra e l'essersi il sogno replicato due volte a Faraone vuol dire che la cosa è decretata da Dio e che Dio l'eseguirà presto tosto tosto vuol dire presto quindi vedete e Dio ha dato questo sogno a Faraone perché gliel'ha dato qui Giuseppe spiega gliel'ha dato per avvisarlo poi prendono le giuste contromisure Giuseppe poi consiglia a Faraone che durante i sette anni di abbondanza di mettere da parte un qualcosa che sarebbe servito poi per i sette anni di carestia e così e così hanno fatto e così si sono trovati bene però vedete come Dio ha dato questo sogno a Faraone per avvisarlo e aveva preparato Giuseppe chiamato il sognatore i suoi fratelli lo chiamavano il sognatore ecco diede il sogno a Faraone che non sapeva né lui né altri interpretare ma poi ha provveduto anche all'interpretazione capite quindi Dio quando dà un sogno poi in qualche maniera provvede anche alla sua interpretazione cioè la comunicazione di Dio agli uomini è perfetta la fa come vuole lui ma alla fine il Signore si fa capire si fa capire quindi quando il Signore ci dà dei sogni o delle visioni e non comprendiamo subito sappiate che c'è bisogno quindi di una interpretazione cioè di una di un Dio magari ci dà un sogno una visione dove ci sono delle figure quindi vanno va trasportato il significato di quelle figure in maniera che si comprenda si traduca da un linguaggio figurato ad un linguaggio comprensibile alla mente umana quindi il Dio parla vedete ha parlato a Faraone attraverso il sogno e poi ha fatto in modo anche che ci fosse l'interpretazione di questo sogno adesso leggiamo andiamo avanti andiamo al libro dei numeri libro dei numeri al capitolo 12 al versetto 6 qui cos'era successo era successo che purtroppo Maria e suo fratello Ron ne mormorarono contro Mosè perché il rapporto che Dio aveva con Mosè non era uguale al rapporto che aveva con altri e talvolta si può creare un'invidia si può essere qualcosa purtroppo è così quando uno è spirituale poi può anche diciamo subire l'invidia e l'attacco di altri e quindi bisogna stare attenti a non farsi prendere anche perché fratelli guardate che se ci sono in mezzo a noi dei fratelli e sorelle spirituali per tutti gli altri sono una benedizione cioè non sono una maledizione capite quindi inutile non si può invidiare quello che sa di più perché quello che sa di più il Dio gli ha dato per poter poi condividere con gli altri quindi non c'è niente da invidiare quello che uno sa poi lo dice agli altri tutti sono arricchiti da quella benedizione spirituale passa quindi la benedizione a tutti gli altri quindi che cosa c'è da invidiare a un fratello che ha ricevuto un ministerio di dottore ad esempio che conosce bene le scritture e te le mette a disposizione lui ha studiato ha ricevuto da Dio rivelazione questo dottore ti mette a disposizione te lo spiega quello che è scritto nella parola quindi tu stai risparmiando tanto tempo allora che cosa c'è da invidiare la benedizione che Dio ha dato a quel fratello vedete i doni che ha dato a quel fratello poi si trova beneficio in tutta la chiesa si riceve del beneficio in tutta la chiesa quindi se un fratello o una sorella sono particolarmente spirituali preghiamo per loro non invidiamoli non parliamo ah ma ci avrà difetti anche lui cioè non scoraggiamo gli altri fratelli e non attacchiamoli perché perché cioè gloria a Dio che Dio volesse che mettesse in mezzo a noi gente veramente molto spirituale più molto più spirituale di noi che ci trascina che ci spinge ci esorta del continuo a camminare come piace al Signore ne abbiamo tutti bisogno ne abbiamo tutti bisogno non è non quindi quindi non dobbiamo fare come ha fatto Maria come l'ha fatta Ronnie contro Mosè ma andiamo a leggere il nostro testo numeri 6 i 12 6 e l'Eterno disse ascoltate ora le mie parole se v'è tra voi alcun profeta io l'Eterno mi faccio conoscere a lui in visione parlo con lui in sogno non così col mio servitore Mosè che è fedele in tutta la mia casa con lui io parlo a tu per tu facendomi vedere e non per via d'enigmi ed egli contempla la sembianza dell'Eterno perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo contro Mosè e l'ira dell'Eterno si accese contro loro ed egli se ne andò e la nuvola si ritirò di sopra la tenda ed ecco che Maria era lebrosa bianca come neve Aaron guardò Maria ed ecco era lebrosa quindi vedete vedete cosa qui è Dio qui è Dio che parla diciamo qui parlò con una voce audibile li fece raccogliere vicino alla tenda di convegno e con questa voce potente e Dio parlò loro io ho preso questo passo per farvi capire che Dio stesso rende testimonianza che lui predilige parlare attraverso i profeti cioè lui parla in modo particolare ai profeti quindi anche alle profetesse quando dico parola profeti cioè ricordatevi che io lo dico ma sono compresi dentro anche le profetesse e anche le sorelle quindi quindi dico solo la parola profeti per semplicità nel discorso ma non sono non sono escluse le sorelle assolutamente il ministerio di profeta ripeto può essere ricevuto anche dalle sorelle quindi perché perché il profeta non riceve i sogni la rivelazione da Dio e le deve raccontare testimoniare di quello che ha ricevuto da Dio non deve insegnare non ha l'obbligo dell'insegnamento della parola capite l'impedimento il divieto che c'è nella scrittura per quanto riguarda la donna è che non può assumere quegli incarichi quegli uffici quei ministeri dove c'è anche l'insegnamento della parola questo è il limite ma non è che la donna è diversa dall'uomo è inferiore noi non stiamo facendo inferiore a nessuno però il Dio ha stabilito certe cose certe regole certi comandamenti sono stati dati e li dobbiamo osservare per quanto riguarda il ministerio di profeta ecco che la donna può profetizzare la donna può ricevere il ministerio di profeta quindi come qui il Dio ha detto il Dio ha detto vedete dice se c'è tra voi alcun profeta io l'Eterno mi faccio conoscere a lui in visione parlo con lui in sogno vedete quindi Dio quando in mezzo alla chiesa c'è un profeta il Dio si fa conoscere a lui magari noi preghiamo per una certa risposta per qualche cosa la chiesa prega o anche il singolo può pregare il Dio può dargli le risposte a questa persona attraverso parlando al profeta o in sogno o in visione qui dice quindi il profeta appena riceve questo sogno questa visione poi deve andare a dire all'interessato se riguarda lui se riguarda chi lo riceve riguarda lui se riguarda qualcun altro perché se Dio può parlare a un profeta per rispondere a un altro fratello allora appena possibile il più presto possibile senza esitazione mi raccomando chi riceve le risposte da Dio per certe cose le deve dare subito al più presto chi riceve rivelazione all'interessato quindi si deve reccare a quella persona raccontargli tutto con dovizia di dettagli non genericamente ma raccontare per bene tutto perché l'altro deve esaminare più cose possibili per verificare accertarsi se può essere credibile quel racconto e poi quel fratello chiederà poi conferma quel fratello quella sorella chiederanno conferma ancora Dio che cosa buona però vedete in Dio già il fatto che parla sappiamo dalle scritture che Dio le sue comunicazioni i suoi messaggi li può dare all'uomo anche attraverso sogni e visioni questo lo dobbiamo sapere qui diciamo ho preso questo passaggio perché qui Dio fa la differenza cioè con Mosè Dio parlava come un uomo parla con il suo amico non in sogno non in visione ma proprio di presenza capite non è che lo vedeva nella sua gloria cioè non è che Mosè ha visto il Dio il Dio nessun uomo l'ha mai veduto però certamente c'era un rapporto particolare seppur ha visto qualcuno avrà visto l'angelo dell'eterno avrà visto Gesù praticamente ma non ma non chiamato nell'antico testamento chiamato prima che nascesse dal ventre di Maria Gesù era è definito dalle scritture l'angelo dell'eterno ve lo ricordo questo quindi Mosè parla il Dio parlava con Mosè come un amico parla come un uomo parla con il suo amico con gli altri genericamente vedete il Dio ha fatto questa distinzione cioè normalmente il Dio quando deve parlare all'uomo se c'è un profeta in mezzo in mezzo al popolo il Dio si rivolge al profeta e manda il profeta e questo nella scrittura l'abbiamo visto molte volte il Dio per parlare a un re per parlare al popolo per parlare a qualcuno ecco cosa fa parlava al profeta e il profeta andava a riferire le parole che Dio gli aveva ordinato di dire e così facevano in tutto e per tutto quando poi trasgredivano una minima parola un minimo comandamento che Dio aveva dato a questi profeti poi li ha fatti morire li ha fatti morire quindi bisogna essere profeti vuol dire riferire esattamente quello che Dio ti dice non devi aggiungere nulla e non devi togliere nulla perché se la comunicazione è quella è quella non è un'altra la devi dare esattamente come Dio te la dà precisamente quindi non puoi tralasciare per volontà tua nulla è chiaro se uno si dimentica un particolare involontariamente non ci puoi fare niente però se tu lo ometti volontariamente poi ne pagherai le conseguenze davanti a Dio se Dio ti fa vedere un condoro faccio un esempio non ha senso adesso faccio un esempio mi fa vedere un gabbiano bianco con un'alla gialla io devo andare a raccontare io ho visto un gabbiano con un'alla gialla non posso raccontare solo io ho visto un gabbiano giallo capite un gabbiano era tutto bianco però un'ala era gialla cioè i dettagli sono importanti tutte le cose sono importanti nel Signore quindi quando si riferiscono le testimonianze anche quelle che accadono realmente i sogni le visioni le parole che abbiamo udito da Dio bisogna riferirle esattamente esattamente come le abbiamo ricevute senza modificare nulla perché badate bene che anche i sogni e le visioni quelli dati da Dio non quelli che l'uomo si inventa ma quelli dati da Dio sono parola di Dio e non dobbiamo aggiungere né togliere nulla cioè non è che se Dio ti sta parlando chi sta parlando non ti sta forse parlando di Dio e puoi aggiungere e togliere qualcosa dalle parole di Dio come non si aggiunge non si toglie nulla dalla parola scritta che abbiamo di Dio così la parola che udiamo da Dio direttamente non dobbiamo aggiungere e non dobbiamo togliere nulla neanche da lì è chiaro che se uno involontariamente non racconta un fatto che ci può che lì si è scordato però è meglio stare attenti e fare ogni cosa in maniera diligente e Dio come abbiamo già detto anche prima non si compiace delle persone stolte dei disavveduti le cinque vergini disavvedute stolte quindi non sono entrate non non sono entrate quindi quindi facciamo attenzione noi dobbiamo dobbiamo essere attenti a tutto dobbiamo fare massima attenzione andiamo avanti quindi abbiamo visto che Dio predilige parlare qualora ci sia un profeta in mezzo al popolo parlare ai profeti riferire delle risposte attraverso attraverso i profeti ora voglio raccontarvi anche un altro sogno importante conosciuto ma importante il sogno di Salomone stiamo andando avanti dall'inizio adesso la legge è stata data è stata data già ai tempi di Mosè la legge è stata ricevuta quindi adesso anche ai tempi di Salomone quindi siamo sotto la legge quindi abbiamo visto che prima della legge di Mosè il Dio parlava anche attraverso sogni e visioni adesso vediamo anche sotto la legge il Dio parlava attraverso sogni e visioni e parlava ai suoi profeti in modo particolare ad esempio Salomone non era profeta però era il re era il re di Israele era stato fatto re di Israele al posto di suo padre Davide e a riguardo a riguardo stanno scritte queste parole capitolo 3 prima re capitolo 3 dal versetto 3 e Salomone amava l'Eterno e seguiva i precetti di Davide suo padre soltanto offriva sacrifici e profumi sugli alti luoghi il re si recò a Gabbaon per offrirvi sacrifici perché quello era il principale fra gli alti luoghi e su quell'altare Salomone offerse mille olocausti a Gabbaon l'Eterno apparve di notte in sogno a Salomone e Dio gli disse chiedi quello che vuoi che io ti dia Salomone rispose tu hai trattato con gran benevolenza il tuo servo Davide mio padre perché gli camminava dinanzi a te con fedeltà con giustizia con retitudine di cuore a tuo riguardo tu gli hai conservata questa gran benevolenza e gli hai dato un figliolo che siede sul trono di lui come oggi avviene ora o Eterno o mio Dio tu hai fatto regnare me tuo servo il luogo di Davide mio padre e io non sono che un giovanetto e non so come condurmi e il tuo servo è in mezzo al popolo che tu hai scelto popolo numeroso che non può essere contato né calcolato tanto è grande dà dunque al tuo servo un cuore intelligente ondegli possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male poiché chi mai potrebbe amministrare la giustizia per quanto per questo tuo popolo che è così numeroso piacque al Signore che Salomone gli avesse fatta una tale richiesta e Dio gli disse giacché tu hai domandato questo e non hai chiesto per te lunga vita né ricchezze né la morte dei tuoi nemici ma hai chiesto intelligenza per poter discernere ciò che è giusto ecco io faccio secondo la tua parola e ti do un cuor savio e intelligente in guisa che nessuno è stato simile a te per lo innanzi e nessuno sorgerà simile a te in appresso e oltre a questo io ti do quello che non mi hai domandato ricchezze e gloria talmente che non vi sarà durante tutta la tua vita alcuno che fra i re che possa esserti paragonato e se cammini nelle mie vie osservando le mie leggi e i miei comandamenti come fece Davide tuo padre io prolungherò i tuoi giorni Salomone si svegliò ed ecco era un sogno vedete qui Salomone rese un particolare culto a Dio cioè fece dei sacrifici considerate che ancora il tempio di Gerusalemme non c'era quindi non si andava a offrire sacrifici un po' qua un po' là dove si poteva ora a Gabbaon a Gabbaon Salomone offrì i suoi sacrifici mille olocausti poi dormì si addormentò e l'Eterno gli apparve in sogno e gli chiese di domandargli di domandargli quello che voleva infatti Dio gli disse in sogno guardate bene quindi attenzione se Dio ci può apparire in sogno e chiederci cosa vogliamo dobbiamo essere pronti a rispondere almeno dobbiamo sapere che c'è questa possibilità capite la differenza dove tra la conoscenza e l'ignoranza io non so se Dio questa notte verrà a chiedermi qualche cosa però so che sta scritto che lo può fare l'ha fatto e lo può fare ancora oggi non cambia e Dio non è mutato e a Salomone gliel'ha chiesto chiedi quello che vuoi che io ti dia vedete e questa è una domanda importante quindi quindi non ci avete mai pensato voi se Dio vi appare in sogno in visione e ti fa la domanda che cosa vuoi che io ti faccia e almeno pensiamoci pensiamoci di che cosa abbiamo bisogno e Salomone ha chiesto quello di cui aveva bisogno sempre in sogno gli ha risposto è stato pronto ha detto io ho bisogno di sapienza e di intelligenza infatti Dio si compiacque di una giusta e buona risposta tutto questo in sogno e gli diede quello e più anche quello che Salomone non ha chiesto vedete Dio quando si risponde bene al Signore c'è sempre una ricompensa gloriosa e potente quindi quindi quando uno è savio ne avrà beneficio se uno è stolto è disavveduto ne avrà ne porterà la pena ne porterà la pena quindi quindi fratelli e sorelle siate salvi preparatevi preparatevi anche all'incontro con il Signore se vi oggi stanotte stessa si mostrerà a uno di noi come risponderai cosa gli risponderai perché è possibile attenzione è possibile se non è oggi verrà il giorno in cui Dio può parlare attraverso un sogno una visione e domandarti che cosa vuoi che io ti faccia tu cosa gli risponderesti non sono pronto non ci ho pensato ancora quella è la possibilità è quella e quindi non devi sbagliare risposta Salomone non la sbagliò e piacque all'Eterno Salomone dopo che ebbe questo discorso quindi questo questo colloquio con l'Eterno c'è scritto al versetto 15 abbiamo letto Salomone si svegliò ed ecco era un sogno e quindi tutto avvenne vedete attraverso un sogno quindi Dio ha parlato a Salomone attraverso un sogno ora andiamo avanti andiamo avanti anche i profeti il Dio parlava facciamo qualche esempio anche con i profeti perché qua il Dio si manifestava ai profeti attraverso sogni e visioni di contismo noi adesso facciamo qualche esempio per poi rapidamente avviarci verso il periodo sotto la grazia quello il periodo delle scritture sotto la grazia citiamo due profeti vogliamo citarne due andiamo uno di quelli a cui Dio parlava molte volte in sogno in visione vabbè tutti i profeti ma in modo particolare anche Ezechiele ne prendo uno di un discorso scritto ne prendiamo uno ma ce ne sono tanti io sto soltanto prendendo degli esempi ma ce ne sono molti di più Ezechiele al capitolo 40 il Dio gli fa vedere a Ezechiele la nuova Gerusalemme è il nuovo tempio che Dio aveva preparato perché ricordatevi che quando il Dio diede questa visione a Ezechiele Gerusalemme era distrutta perché glielo diede quando era in cattività il popolo di Israele aveva disubbidito a Dio e Dio aveva mandato dei re contro Gerusalemme aveva distrutto le mura la città e anche il tempio fu distrutto fu distrutto anche il tempio ora quando Ezechiele il profeta Ezechiele che era in cattività era in cattività vediamo dove e sotto chi quindi avvenne quindi il primo capitolo di Ezechiele vediamo cosa dice avvenne l'anno trentesimo il quinto giorno del quarto mese che essendo presso al fiume Chebar fra quelli che erano stati menati in cattività i cieli si aprirono e io ebbi delle visioni divine questo è il primo versetto del profeta Ezechiele quindi invece al capitolo 40 ai primi versetti leggiamo queste parole l'anno venticinquesimo della nostra cattività al principio dell'anno il decimo giorno del mese 14 anni dopo la presa della città in quello stesso giorno la mano dell'Eterno fu sopra me ed egli mi trasportò nel paese di Israele in una visione divina mi trasportò là e mi posò sopra un monte altissimo sul quale stava dal lato di mezzogiorno come la costruzione di una città egli mi menò là ed ecco che vero un uomo il cui aspetto era come aspetto di rame aveva in mano una corda di lino e una canna da misurare e stava in pie sulla porta e quell'uomo mi disse figlio il duomo apri gli occhi e guarda porgi l'orecchio ascolta e poni mente a tutte le cose che io ti mostrerò poi poiché tu sei stato menato qua perché io te le mostri riferisci alla casa di Israele tutto quello che vedrai vedete quindi il profeta Ezechiele era stato rapito nella sua mente era stato trasportato in questa città e gli è stato fatto vedere qualcosa che doveva riferire e tutto questo in visione in una maniera particolare un ratto la visione viene chiamata anche rapimento della mente no? il ratto della mente la mente viene presa da Dio dallo Spirito Santo e Dio ti fa vedere vivere quello che vuole Lui magari stando il corpo fermo sempre in un posto però la tua mente sta viaggiando i tuoi occhi stanno scorrendo un'altra nazione un altro posto il Dio è potente da fare anche questo a Dio nulla nulla è impossibile quindi ecco attraverso questa visione il Dio parlava vedete anche al profeta Ezechiele a tutti i profeti ma al profeta Ezechiele vedete è scritto questo anche prendiamo un esempio anche dal profeta Daniele qui l'esempio è duplice perché è molto interessante il re Nebuchadnezzar quindi qui siamo anche con Daniele siamo sempre siamo nel regno di Babilonia va bene dove c'è adesso l'Iran e l'Iraq lì dove ci sono i fiumi il Tigri e l'Eufrate c'era Babilonia a quell'epoca c'era il regno di Babilonia il cui re era Nebuchadnezzar e Dio guardate cosa fece questo re cosa gli diede quindi al capitolo 2 di Daniele al versetto 1 sta scritto sta scritto il secondo anno del regno di Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar ebbe dei sogni il suo spirito ne fu turbato e il suo sonno fu rotto il re fece chiamare i magi gli astrologi gli incantatori e i caldei perché gli spiegassero i suoi sogni ed essi vennero e si presentarono al re e il re disse loro ho fatto un sogno e il mio spirito è turbato perché vorrei comprendere il sogno allora i caldei risposero al re in aramaico oh re possa tu vivere in perpetuo racconta il sogno ai tuoi servi e noi ne daremo la interpretazione il re replicò e disse ai caldei la mia decisione è presa se voi non mi fate conoscere il sogno e la sua interpretazione sarete fatti a pezzi e le vostre case saranno ridotte in tanti immondezzi ma se mi dite il sogno e la sua interpretazione riceverete da me doni ricompense e grandi onori ditemi dunque il sogno e la sua interpretazione avete capito questo re non era un re stolto perché perché si raccontava il sogno no praticamente provate a raccontare qualche sogno a qualcuno anche se non hanno capito niente si mettono a rispondervi a dire a dire è successo questo è successo quest'altro vuol dire questo vuol dire quell'altro e come facciamo poi a dire che non è così no come si fa ma qui il re Nebuchadnezzar per sapere con certezza che l'interpretazione è quella giusta cosa si è inventato e devo dire che mi ha sempre menavigliato questa scelta ma era la scelta veramente giusta cioè i sogni i caldei che erano i magi no di Babilonia quelli lì e tutti gli uomini che avevano quelle capacità di interpretare i sogni o per le arti occulte o per altre cose il re gli ha detto voi mi dovete far conoscere il sogno e la sua interpretazione quindi tutti gli altri non sapevano che sogno aveva avuto Nebuchadnezzar qui dovevano prima prima conoscere il sogno e poi la sua interpretazione solo che questo re non è che era un re buono era malvagio quindi voleva distruggere tutti quelli che tutti quelli i savi di quel di quel luogo perché se non gli davano se non gli davano l'interpretazione quindi la situazione era molto difficile il cuore di Daniele fu angustiato e cosa successe? successe che anche Daniele era a rischio però Daniele cosa ha fatto? capitolo 2 leggiamo adesso come Daniele diede l'interpretazione capitolo 2 versetto 17 sempre del profeta Daniele allora Daniele andò a casa sua e informò della cosa Anania Mishael e Azzaria suoi compagni perché implorassero la misericordia del Dio del cielo a proposito di questo di questo segreto onde Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte col resto dei savi di Babilonia allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna e Daniele benedisse l'Idio del cielo Daniele prese a dire sia benedetto il nome di Dio d'eternità in eternità poiché a lui appartengono la sapienza e la forza egli muta i tempi e le stagioni depone i re e li stabilisce dalla sapienza ai savi e la scienza a quelli che hanno intelletto e gli rivela le cose profonde e occulte conosce ciò che è nelle tenebre e la luce dimora con lui o Dio dei miei padri io ti rendo gloria e lode perché mi hai dato sapienza e forza e mi hai fatto conoscere quello che ti abbiamo domandato rivelandoci la cosa che il re vuole Daniele entrò quindi da Ariok a cui il re aveva dato l'incarico di far perire i savi di Babilonia entrò e gli disse così non far perire i savi di Babilonia conducimi davanti al re e io darò al re l'interpretazione allora Ariok menò in tutta fretta Daniele davanti al re e gli parlò così io ho trovato fra i giudei che sono in cattività un uomo che darà al re l'interpretazione il re prese a dire a Daniele che si chiamava Belzazzar sei tu capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione Daniele rispose in presenza del re e disse il segreto che il re domanda né savi né incantatori né magi né astrologi possono svelarlo al re ma viene il cielo un dio che rivela i segreti ed egli ha fatto conoscere al re Nebuchadnezzar quello che avverrà negli ultimi giorni ecco quali erano il tuo sogno e le visioni della tua mente quando eri a letto i tuoi pensieri o re quando eri a letto si riferivano a quello che deve avvenire da ora innanzi e colui che rivela i segreti ti ha fatto conoscere quello che avverrà e quanto a me questo segreto mi è stato rivelato non per una sapienza che io possegga superiore a quella di tutti gli altri viventi ma perché l'interpretazione ne sia data al re e tu possa conoscere quel che preoccupava il tuo cuore tu o re guardavi ed ecco una grande statua questa statua che era immensa ed uno splendore straordinario si ergeva dinanzi a te e il suo aspetto era terribile la testa di questa statua era dorofino il suo petto e le sue braccia erano d'argento il suo ventre e le sue cosce di rame le sue gambe di ferro i suoi piedi in parte di ferro e in parte di argilla tu stavi guardando quando ecco una pietra si staccò senza opera di mano e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò allora il ferro l'argilla il rame l'argento e l'oro furono frantumati insieme e diventarono come la pula sulle aie d'estate il vento li portò via e non se ne trovò più traccia ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra questo è il sogno ora ne daremo l'interpretazione davanti al re tu o re sei il re dei re al quale l'iddio del cielo ha dato l'impero la potenza la forza e la gloria e dovunque dimorano i figlioli degli uomini le bestie della campagna e gli uccelli del cielo egli te li ha dati nelle mani e ti ha fatto dominare sopra essi tutti la testa d'oro sei tu e dopo di te sorgerà un altro regno inferiore al tuo poi un terzo regno di rame che dominerà sulla terra poi vi sarà un quarto regno forte come il ferro poiché come il ferro spezza ed abbatte ogni cosa così pari al ferro che tutto frantuma esso spezzerà ogni cosa e come hai visto i piedi e le dita in parte d'argilla di vasaio e in parte di ferro così quel regno sarà diviso ma vi sarà in lui qualcosa della consistenza del ferro già che tu hai visto il ferro mescolato con la molle argilla e come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile tu hai visto il ferro mescolato con la molle argilla perché quelli si mescoleranno mediante connubi umani ma non saranno uniti l'uno all'altro nello stesso modo che il ferro non si amalgama con l'argilla e al tempo di questi re l'iddio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non passerà sotto la dominazione d'un altro popolo quello spezzerà e annienterà tutti quei regni ma esso sussisterà in perpetuo nel modo che hai visto la pietra staccarsi dal monte senza opera di mano e spezzare il ferro il rame l'argilla l'argento e l'oro il grande dio ha fatto conoscere al re ciò che deve avvenire d'ora innanzi il sogno è verace e la interpretazione ne è sicura allora il re Nebuchadnezzar cadde sulla sua faccia si prostrò davanti a Daniele e ordinò che gli fossero presentati offerte e profumi ho voluto non si poteva spezzare qui tutto il racconto perché è veramente di una bellezza questa è una una predizione che Dio diede a quel re Nebuchadnezzar ha dato la stessa predizione perché Nebuchadnezzar il sogno non l'ha raccontato a nessuno almeno la scrittura non ce lo dice e Dio ha dovuto ridare il sogno a Daniele e anche la sua interpretazione ho voluto citare questo non solo perché diciamo è nel soggetto che stiamo trattando sogni e visioni ma perché quella pietra che ha frantumato tutto quei piedi di argilla e di ferro è il il regno il regno di Roma è l'impero romano quella pietra è Cristo il regno di cui si parla che non passerà sotto nessun re sotto ma esso sussisterà in perpetuo è il regno di Cristo che è dentro i cuori degli uomini in quel regno solo Cristo può regnare quindi Dio vedete aveva dato questa rivelazione a Nebuchadnezzar l'ha ridata a Daniele con la sua spiegazione e sta preannunciando vedete la venuta di Cristo la roccia no? la roccia che frantuma schiaccia distrugge la roccia non solo salva ma anche distrugge non solo dalla roccia scaturisce dell'acqua ma anche frantuma gli altri regni e ho voluto cittarvi anche questo vedete come Dio ha operato raccontando ma non solo io vi ho parlato adesso dell'ultimo regno ma ci sono anche i vari regni precedenti a quelli di Roma capite? quindi Dio aveva predetto aveva predetto i regni che ci sarebbero stati cioè ha predetto dopo Babilonia i regni che ci sarebbero stati quindi a partire di Babilonia del re babilonese che era Nebuchadnezzar che è la testa d'oro poi in successione fino al regno romano e questo per farvi capire vedete come anche la parola di Dio è fedele e verace questa non è parola d'uomo questa che noi leggiamo non è una parola d'uomo ma è la parola dell'iddio vivente vero che ha preannunciato quello che sarebbe accaduto quindi questo anche come conferma quindi questo passaggio è anche una conferma di quello che Dio ha voluto quello che Dio ha voluto farci arrivare a noi una parola ispirata da Lui non è parola d'uomo ma è la parola dell'iddio vivente vero quindi dobbiamo avere piena fiducia nelle sacre scritture piena fiducia affinché affinché ci facciamo ammaestrare da Dio attraverso la sua parola vedete dunque come è grande il nostro Dio dai sogni dai visioni e in questi ci sono dei grandi significati e questo è ai tempi dei profeti ma ora andiamo arriviamo sotto la grazia e sì perché doveva venire anche il momento di parlare di determinate sogni e visioni anche sotto la grazia e andiamo al capitolo 2 di atti degli apostoli il discorso di Pietro atti 2 dal versetto 15 atti 2 15 la situazione è questa che il giorno della pentecoste è sceso come Gesù aveva promesso come Giovanni Battista aveva promesso come il profeta Gioele aveva promesso prima di Giovanni Battista e di Gesù scese il battesimo con lo Spirito Santo e circa 120 furono riempiti della potenza dello Spirito Santo col segno di parlare in altre lingue poi Pietro si alza con gli undici e spiega che cosa è accaduto e questo adesso noi leggiamo capitolo 2 di atti versetto 15 perché costoro non sono ebri come voi supponete poiché non è che la terza ora del giorno la terza ora del giorno è sono le nove del mattino come si calcolavano le ore ai tempi magari lo dico lo voglio dire per quelli che magari non lo sanno la giornata ebraica si divideva dalle 6 del mattino no dalle 18 della sera alle 18 della sera dopo ed era diviso dalle 18 alle 6 del mattino erano gli orari praticamente notturni era la notte e dalle 6 del mattino fino alle 18 era l'orario l'orario diciamo diurno quindi la terza ora del giorno praticamente dalle 6 del mattino aggiungiamo qui dice la terza ora del giorno quindi il giorno partiva dalle 6 del mattino e si aggiungono tre ore quindi tre ore e sei fanno le nove quindi erano allora il tempo lo calcolavano in quella maniera dicevano questa è la terza ora del giorno per noi oggi diciamo che sono le nove del mattino e allora è chiamata la terza ora del giorno così si calcolavano le ore ai tempi degli apostoli andiamo avanti versetto 16 ma questo è quel che fu detto per mezzo del profeta Gioele e avverrà negli ultimi giorni dice il Dio che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne e i vostri figlioli e le vostre figliole profeteranno e i vostri giovani vedranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni e anche sui miei servi e sulle mie serventi in quei giorni spanderò del mio spirito profeteranno vedete questo passaggio di Gioele che era stato preannunciato da Gioele il battesimo con lo spirito santo viene citato da Pietro per spiegare quello che era avvenuto quel giorno quindi adesso noi esaminando i passaggi le parole che dice Gioele facciamo determinate conclusioni non tanto dal punto di vista del battesimo con lo spirito santo quello lo abbiamo esaminato tante volte lo faremo ancora ma dal punto di vista della conseguenza che qui il profeta Gioele citato da Pietro pone dopo la ricezione del battesimo con lo spirito santo quindi adesso lo stiamo citando questo passaggio come effetto per vedere gli effetti del ricevere il battesimo con lo spirito santo dice io spanderò del mio spirito sopra ogni carne e i vostri figlioli vedete come conseguenza quindi del battesimo con lo spirito santo e i vostri figlioli e le vostre figlioli profeteranno quindi riceveranno i doni di profezia e profeteranno e i vostri giovani vedranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni ora non è che si hanno i sogni e le visioni profezia sì il dono di profezia sia per adesso solamente dopo che si è battezzati con lo spirito santo ma per quanto i sogni e le visioni si possono avere anche da non convertiti anche prima di essere battezzati con lo spirito santo qui cosa vuole dire però in questa maniera cioè questa deduzione che vi sto ponendo è perché si deduce dalla somma della parola non perché vi voglio dire io così ma la parola ci fa capire questo qui invece per quanto riguarda cosa vuole dire dopo il battesimo con lo spirito santo che i sogni e le visioni sarebbero stati quindi più frequenti cioè non dico una normalità però più frequenti il Dio avrebbe il Dio opera il Dio opera dando sogni e visioni in maniera particolare a coloro che sono battezzati con lo spirito santo quindi uno degli effetti e conseguenze del ricevere il battesimo con lo spirito santo può essere quello di ricevere che Dio si rivela ai credenti ai credenti attraverso sogni e visioni potenti e gloriosi quindi vedete questo passo che si è adempiuto ecco a noi ci interessa soprattutto questo questo passaggio biblico che fu preannunciato dal profeta Gioele si è adempiuto sotto la grazia ai tempi del il giorno della Pentecoste dopo la risurrezione di Gesù e la sua ascensione in cielo Pietro ha citato quel passaggio che si è adempiuto il passaggio del profeta Gioele si è adempiuto quel giorno e quell'adempimento della promessa parla anche dei sogni e delle visioni quindi se si è avverata iniziata ad avverarsi quel giorno così così trattando anche i sogni e le visioni noi dobbiamo credere che sotto la grazia anche sotto la grazia ci sono i sogni e le visioni e ce ne sono tanti adesso io non sono andato ai Vangeli a citarvi tutti i passaggi dove c'è scritto sogni e visioni sotto la grazia già nei Vangeli perché è pieno anche lì ne sono tanti per avvisare per 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 annunciare insomma tante rivelazioni che Dio ha dato tante rivelazioni che Dio ha dato attraverso sogni attraverso visioni e questo è una cosa normale quello che voglio comunicarvi è che anche sotto la grazia deve deve essere considerato una cosa normale ricevere dei sogni e delle visioni normale nel senso che c'è una cosa che avviene è chiaro che è una cosa gloriosa cioè non è non è normale come guardare un video su Youtube ma è una cosa gloriosa che viene da Dio ma bisogna considerarla come una cosa frequente una cosa che avviene secondo la volontà di Dio a chi vuole lui è chiaro da sogni e visioni a chi vuole lui ma questi sotto la grazia vengono dati così è scritto così è stato promesso dal profeta Gioele e così avviene anche sotto la grazia quindi quindi devo ribadirli questi concetti perché l'ambiente evangelico che è suddiviso in tante piccole sottocategorie in quale c'è quello che crede nei sogni quello che non ci crede quello che ci crede in maniera sbagliata quindi noi dobbiamo mettere in ordine tutte queste cose secondo quanto dicono le sacre scritture dicono le sacre scritture quindi quando incontrate qualcuno che non credono nei sogni e nelle visioni esortateli esortateli a credere nella parola di Dio non tanto nei sogni e nelle visioni ma intanto comincino a credere a quello che è scritto nella parola poi poi si vedrà perché quelli che non credono nei sogni e nelle visioni non credono neanche nella parola infatti questi passaggi biblici che trattano dei sogni e delle visioni vengono da questi disprezzati quindi il problema è proprio sulla parola non tanto sul credere ai sogni e alle visioni cioè io ci credo ma non credo a tutti i sogni e tutte le visioni perché molti fingono fanno finta mentono sono bugiardi sono falsi profeti che riferiscono cose del loro senno e non quelle che Dio ha comandato di dire quindi questo lo sappiamo lo so lo sappiamo e non ci dobbiamo far traviare dalla via della verità ma questo non ci non ci non ci chiude la porta di credere che ci siano che ci siano veri sogni e visioni e la parola stiamo leggendo nella parola appunto che questo è che le cose stanno proprio così che stanno proprio così che Dio ancora oggi parla attraverso i sogni e attraverso le visioni vediamone qualcuna perché qui Pietro le ha preannunciate ora vediamone qualcuna ad esempio anche per quanto riguarda i non convertiti perché Dio parla in sogno e in visione anche ai non convertiti vi ricordate Abimelech che era il re di Gerar il Dio gli diede quel sogno per ammonirlo e non farlo morire quindi non lo volle far morire il Dio gli si mostrò e in sogno l'ha avvertito che Sara la moglie di Abramo non era che Sara non poteva tenerla come moglie e qui il Dio ad esempio avvisa Cornelio quindi andiamo al capitolo Cornelio che non era credente quando al capitolo 10 anzi parliamo prima di Anania prima di Cornelio parliamo di Anania che è un po' prima un po' ecco per quanto riguarda la conversione di Saulo ad esempio gli appare Gesù e Saulo si è convertito poi il Dio guardate cosa dice qui al versetto 10 quindi capitolo 9 di Atti degli Apostoli al versetto 10 dice or in Damasco vera un certo discepolo chiamato Anania e il Signore gli disse in visione il Signore gli disse in visione vedete il Signore Gesù apparve a questo discepolo di nome Anania in visione e gli disse Anania ed egli rispose eccomi Signore vedete come era pronto anche qui Anania ecco perché io vi sto parlando di queste cose affinché voi vi prepariate mentalmente nel cuore e crediate in queste cose e siate poi pronti anche quando possano un giorno avvenire voi dovete essere pronti a rispondere anche al Signore eccomi Signore e il Signore a lui levati vattene nella strada detta dritta e cerca in casa di Giuda un uomo chiamato Saulo da Tarso poiché ecco egli è in preghiera e ha veduto un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani perché ricuperi la vista quindi il Dio il Gesù ha parlato a Anania e gli ha detto e gli ha parlato di Paolo che doveva andare da Paolo impogli le mani guarirlo e anche battezzarlo in acqua vedete e il Signore ha parlato ad Anania questo discepolo in visione e addirittura gli aveva preannunciato ad Anania che anche Paolo vedeva l'avrebbe veduto venire e impogli le mani in visione quindi anche Paolo lo vide anche se era cieco lo vide perché il Dio può farti vedere quello che vuole lui anche se uno è cieco il Dio in visione in sogno gli può far vedere quello che vuole e come Gesù gli ha detto così è avvenuto e adesso andiamo andiamo a parlare di Cornelio Cornelio non è convertito al capitolo 10 Cornelio ebbe una visione ad esempio è scritto di Cornelio quindi questo per dirvi che il Dio può parlare in visione in sogno anche a delle persone che non sono convertite e gli dice quindi il Dio dà una visione a Cornelio e sta scritto così or vera in Cesarea un uomo chiamato Cornelio centurione della corte detta l'italica il quale era Pio e temente il Dio con tutta la sua casa e faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo e gli vide chiaramente in visione verso l'ora nona qui per l'ora facciamo 9 più 6 fanno le 15 fanno le 3 pomeridiane 9 più 6 quindi così si calcola per determinare l'orario per sapere qual è l'ora verso l'ora nona del giorno un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse Cornelio ed egli riguardandolo fisso e preso da spavento rispose vabbè poi c'è tutto un discorso dietro che gli dice di andare a chiamare Pietro ma vedete Dio gli dà una visione e gli fa vedere un angelo un angelo va a parlargli in visione perché dice al versetto 3 scritto egli vide chiaramente in visione verso l'ora nona del giorno un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse quindi era in visione ricordatevi che il sogno c'è il sogno il Dio può parlare attraverso i sogni il sogno si ha quando si dorme quando si sta dormendo si può il Dio può parlare può parlare all'uomo mentre sta dormendo in sogno quando è sveglio il Dio ci può parlare lo stesso come se fosse un sogno una sorta di sogno un ratto di mente ti fa vedere quello che vuole lui anche se sei sveglio ti fa vedere non più quello che si vede nella realtà se davanti a te c'è un muro c'è un computer il Dio ti può aprire come se si aprisse la schermata tua davanti che hai agli occhi e Dio ti fa vedere quello che vuole lui il Signore fa come vuole questa è stata la visione data da Dio a Cornelio ma c'è anche quella che Dio diede a Pietro per convincerlo di andare con i gentili perché non era lecito ai gentili cioè i giudei avevano delle riserve di andare a casa dei gentili insomma avevano sempre anche se Dio Gesù aveva spiegato ma diciamo ci avevano ancora delle riserve i giudei e Dio diede appunto questa una visione anche a Pietro che la leggiamo capitolo 10 al versetto 9 or il giorno seguente mentre quelli erano in viaggio e si avvicinavano alla città Pietro salì sul terrazzo della casa verso l'ora sesta vedete l'ora sesta più 6 12 mezzogiorno 6 più 6 12 quindi era mezzogiorno per pregare e avvenne che ebbe fame e desiderava prendere cibo e come gliene preparavano fu rapito in estasi vedete un altro modo per dire ratto di mente la Diodati traduce ratto di mente visione cioè era lì in quella terrazza Pietro che aveva stava pregando quindi era sveglio pregava ebbe fame e la sua mente fu rapita cosa cosa successe con quel rapimento della sua mente vediamo e vide il cielo aperto e scenderne una certa cosa simile a un gran lenzuolo che tenuto per i quattro capi veniva calato in terra in esso erano dei quadrupedi dei rettili della terra degli uccelli del cielo di ogni specie e una voce gli disse levati Pietro ammazza e mangia ma Pietro rispose in un modo signore poiché io non ho mai mangiato nulla di immondo né di contaminato e una voce gli disse di nuovo la seconda volta le cose che Dio ha purificate non le far tu immonde questo voleva significare con quella visione che Dio aveva purificato i gentili perché prima i gentili erano considerati impuri infatti i giudei resistevano ad avere rapporti relazioni con i gentili ma il Dio gli mostrava Pietro per convincerlo di andare con quegli uomini che stavano arrivando a chiamarlo che erano gentili quelli che dovevano chiamare Pietro questa visione gli è stata data da Dio a Pietro per convincerlo di andare con questi con questi gentili quindi aveva un senso un significato ben preciso la visione che Dio ha dato a Cornelio di andare a chiamare Pietro poi ha dato una visione a Pietro per convincerlo e spiegargli che doveva andare con quelle persone che Dio stesso aveva mandato a chiamarlo capite cioè il Signore parla il Signore parla attraverso le scritture attraverso i sogni attraverso le visioni attraverso la profezia il Dio parla e questa la cosa importante che tutti noi non dobbiamo mai dimenticare il Dio parla come vuole lui ma lui parla non ha cessato oggi di comunicare con il suo popolo non ha cessato in modo in nessuna maniera egli continua a parlare con chi vuole lui e quando vuole lui però continua a parlare e noi lo dobbiamo credere fermamente questo perché è scritto nella sua parola anche se non abbiamo avuto sogni anche se non abbiamo quelli da Dio è chiaro perché di sogni ne facciamo tanti tutti i giorni ma non sono da Dio è chiaro la maggior parte non sono da Dio però in mezzo a questi ci possono essere dei sogni che vengono da Dio come fare a riconoscerli li riconoscerai se sono da Dio li riconoscerai come abbiamo letto tutti quelli che hanno ricevuto un sogno da Dio sono rimasti sconvolti spaventati turbati in qualche maniera il Dio gli ha fatto capire che erano dei sogni particolari non erano come gli altri sogni quindi lo capirai quando riceverai un sogno da Dio non avrai dubbio che è da Dio capite quindi le visioni ce l'hai quando sei sveglio quindi lì devi crederci per forza perché se sei sveglio vedi delle cose che Dio ti fa vedere e quindi abbiamo visto Cornelio e Pietro ma anche Paolo andiamo avanti anche Paolo quando andava a evangelizzare Paolo andava a evangelizzare capitolo 16 di Atti 16.6 poi traversarono la Friggia e il paese della Galazia avendo lo Spirito Santo vietato loro d'annunziare la parola in Asia e giunti sui confini della Misia tentarono di andare in Bitinia ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro e passata la Misia discesero in Troas e Paolo ebbe di notte una visione un uomo macedono gli stava dinanzi e lo pregava dicendo passa in Macedonia e soccorrici e come gli ebbe avuta quella visione cercammo subito di partire per la Macedonia tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro l'Evangelo vedete in questo caso Paolo cercava di andare a evangelizzare in Asia e in Bitinia ma il Signore non gliel'aveva permesso poi attraverso una visione Dio gli fa sapere che doveva andare ad evangelizzare dove? in Macedonia lo aspettavano quella era la volontà di Dio il Dio attraverso questa visione ha fatto sapere a Paolo dove doveva andare ad evangelizzare dove doveva rendere il suo servizio lui diceva il ragionamento di Paolo era questo io devo evangelizzare vado in Asia ancora non si è evangelizzato ma Dio gliel'ha vietato ha detto vabbè qui mi è chiusa la porta andiamo in Bitinia no vietato anche in Bitinia perché? perché la volontà di Dio era quella che lui andasse ad evangelizzare in Macedonia dove Dio aveva stabilito non dove l'uomo pensa ecco come Dio guida e come l'ha guidato in Macedonia il Dio ha guidato l'Apostolo Paolo ad annunziare l'Evangelo in Macedonia attraverso questa grande gloriosa visione vedete e quindi vedete a che cosa servono i sogni e le visioni sono piene di utilità cioè è una comunicazione di Dio agli uomini infatti dopo che Paolo ebbe la visione vedete qual è stato il risultato il risultato si vede a capitolo 16 versetto 10 dice e come egli ebbe avuta quella visione cercammo subito di partire per la Macedonia tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro l'Evangelo tenendo per certo c'erano sicuri a parte che la visione lebbe Paolo e quindi quando la raccontò loro credevano cioè credevano che era una visione intanto data da Dio non è che non avevano dubbi insomma se sono fratelli fededegni è chiaro che certe cose ci devi credere e quindi e quindi e poi lo Spirito Santo gliel'avrà sicuramente attestato e accertato e vedete è stato hanno ottenuto quindi per sicuro perché sicuramente avevano delle incertezze cioè non sapevano dove andare e Dio alla fine gliel'ha comunicato perché qui mi era vietato di là non ha voluto dove andiamo magari l'hanno anche chiesto stavano pregando per chiedere dove andare e Dio gli ha risposto il Dio ha risposto dove dovevano andare ad evangelizzare e gli ha detto dove in Macedonia in Macedonia attraverso che cosa gli ha parlato il Dio attraverso attraverso una visione e vedete quanto è importante quanto è importante è così fratelli cioè anche queste cose sono importanti purtroppo io non anche prima anni fa che frequentavo qualche comunità di queste cose io ne sentivo parlare poco perché sono queste cose che ci fanno crescere la fede in Dio e ci fanno desiderare ci fanno aspettare le risposte di Dio ci fanno desiderare di avere dei sogni e delle visioni è una cosa buona è giusta desiderare e aspettare quindi anche Paolo Paolo ebbe questa visione poi Paolo ne ebbe anche un'altra no? ad esempio gli apparve Gesù in visione capitolo 18 quando Paolo era corinto per incoraggiarlo cioè perché i nemici della verità e di coloro che evangelizzano sono tanti allora il Signore con una visione con un'apparizione di Gesù per dire con delle parole data in visione incoraggia incoraggia Paolo incoraggia le persone i santi l'incoraggia capitolo 18 di Atti dal versetto 9 e il Signore disse di notte in visione a Paolo non temere ma parla e non tacere perché io sono con te e nessuno metterà le mani su te per farti del male poiché io ho un gran popolo in questa città ed egli dimorò qui un anno e sei mesi insegnando fra loro la parola di Dio vedete Gesù gli ha confermato di parlare Gesù gli è apparsa in visione a Paolo parla parla non ti fermare non aver paura perché qui ho un gran popolo qui c'è da lavorare da lavorare abbondantemente e Gesù gli è apparso in visione all'Apostolo Paolo per incoraggiarlo ad esempio se vogliamo leggere nel Nuovo Testamento altre visioni basta andare in Apocalisse in Apocalisse ci sono tante tante visioni la stessa la stessa parola Apocalisse che è una parola diciamo greca italianizzata vuol dire rivelazione leggiamo i primi versetti di Apocalisse da scritto capitolo 1 di Apocalisse poi dicono che non lo citiamo Apocalisse è chiaro che non andiamo a citare cose che non siamo sicuri ma quello che si può citare anche di Apocalisse si cita non vado a citare cose sconosciute a me sconosciute io desidero citare solo cose che si comprendono capitolo 1 di Apocalisse la rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli ha data per mostrare ai suoi servitori le cose che debbono avvenire in breve ed egli l'ha fatta conoscere mandandola per mezzo del suo angelo al suo servitore Giovanni il quale ha attestato la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che gli ha veduto vedete la visione veduto rivelazione il Dio ha dato a Giovanni a Giovanni questa rivelazione in visione gli ha fatto vedere gli ha fatto sentire delle cose gli ha fatte vedere quindi in visione li ha viste li ha viste le ha raccontate le ha scritte in questo libro e c'erano anche quella parte delle cose che gli sono state dette in visione in questa grande rivelazione anche diretta alle sette chiese quindi vedete per quelli ancora che dicono che il sogno e la visione che uno ha è rivolto solo a se stesso ma non è corretto le cose non stanno così cioè le sogno e le visioni noi le possiamo ricevere e può essere o diretta a noi stessi o altrimenti possono essere anche dirette ad altri e le dobbiamo riportare fedelmente all'interessato quando è rivolto ad altri quindi non è come dicono taluni che i sogni e le visioni sono rivolti solo a chi le riceve questo furbescamente cercano di tappare la bocca no? non tanto all'uomo ma a Dio che parla perché Dio manda sogni e visioni per avvertire per ammonire tutta la chiesa le singole persone il pastore attraverso i profeti no? il Dio parla i profeti per ammonire il pastore ecco vedete i ministeri che quando ci sono i ministeri operanti nella chiesa si controlla una vicenda si controlla una vicenda quindi e i pastori corrotti cosa fanno? non vogliono sentire riprensione attraverso sogni e visioni quindi cosa fa? parlano contro i sogni e contro le visioni parlano contro queste cose per far tacere le persone per imbavagliarle e noi invece invece parliamo esortiamo i fratelli a desiderare i sogni e le visioni perché sono da Dio perché sono scritte nella parola e noi ci crediamo e le dobbiamo desiderare e dobbiamo essere pronti quando Dio ci parlerà in sogno e in visione dobbiamo essere pronti a rispondergli come si conviene come ha risposto salomone prontamente quindi dobbiamo saperle queste cose non possiamo non conoscerle non conoscerle non considerarle che sono scritte nella parola di Dio ma anche se crediamo però attenzione voglio concludere con questo versetto anche se noi crediamo che Dio parla attraverso i sogni e visioni però facciamo attenzione facciamo attenzione perché il nostro cammino noi lo dobbiamo fare sempre per fede nella parola di Dio non è che camminiamo solo se abbiamo una visione capite? adesso non dobbiamo fare un errore contrario cioè da un estremo che non credono all'altro estremo che camminano solo se hanno una visione e questo no perché è scritto in seconda Corinzi è scritto al capitolo 5 di seconda Corinzi dal versetto 6 noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore poiché camminiamo per fede e non per visione ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare col Signore qui queste parole poiché camminiamo per fede e non per visione è importante perché noi dobbiamo camminare per mezzo della fede nella parola del Dio vivente vero questa è la base principale noi non camminiamo pensando solo ai sogni e alle visioni che io che ognuno di noi ha ricevuto o che altri hanno ricevuto si cammina sempre per la fede in Dio per la fede in Cristo per la fede nella conoscenza della parola di Dio questa è la cosa più importante è chiaro che quindi non siamo guidati totalmente ed esclusivamente dai sogni e dalle visioni siamo guidati principalmente dalle sacre scritture da Dio dalla parola di Dio e poi in aggiunta a tutto questo ci sono anche i sogni e le visioni quindi dobbiamo essere credenti siamo credenti crediamo a quello che sta scritto e non dobbiamo essere creduloni non dobbiamo credere a tutto quello che si dice che viene detto in giro dobbiamo provare ogni spirito dobbiamo provare e mettere alla prova tutte le persone che ci parlano e anche mettere alla prova anche il discorso se regge i discorsi che ci vengono fatti se reggono quindi noi camminiamo per fede non per visione anche se sappiamo che Dio parla attraverso i sogni e le visioni ancora oggi non ha cessato in modo assoluto di parlare con il suo popolo attraverso i sogni e le visioni e questa era la conoscenza l'esortazione a pregare che ho voluto questa sera darvi fratelli e sorelle nel Signore a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén